dovrò suonare le pentole. Ho proprio deciso stasera di suonare le pentole del teatro perché mi sembrava più giusto. Le pentole io le suono ogni tanto, non sempre, perché Annette Henshaw ha smesso di cantare quando aveva 35 anni, nel 1930, all'apice della sua carriera avrebbe potuto continuare, forse, non si sa, però comunque lei è morta nell'85, quindi c'erano davanti altri 50 anni di musica potenzialmente, era la più grande cantante degli anni 20 in quel periodo, arrivati gli anni 30 aveva deciso no, basta, mi sposo con il mio produttore e mi chiudo in casa e chi si ha visto si ha visto, lasciando un pubblico stremato nella nostalgia della sua voce. Io immagino il suo spirito imprigionato in cucina che suona le pentole. Se si è sposata dal suo produttore, però non si sa che non è che ha fatto imprigionato in cucina. Pensa se ti sposassi a meglio. Che fortuna che la divideresti. Aspetta, andiamo Grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti